A questa persona e a tutti gli umani presenti sulla Terra che attualmente sta per evolversi una nuova specie di dementi. Io faccio parte di questa nuova specie, sono il capostipide dei dementi. Eccomi, mi presento, sono il King Dementia. In quelle potete portarmi a vedere qualsiasi cosa, ma non avrò paura di niente perché io sono l'unica persona in grado di poter uscire dal corpo e lasciare qua direttamente il mio spirito. Oggi, ultima frontiera dei dementi. Ho conosciuto delle persone più dementi di me. Sono triste. The King of Dementia è triste. Ho bisogno di trovare persone meno dementi. Io mi sento sopraffatto da questa demenza. Ho bisogno di trovare persone meno dementi. Ho bisogno di trovare persone meno dementi. Grazie a tutti.